Un bel messaggio quello che la Ministra per l'istruzione Anna Maria Bernini ha portato oggi al Giffoni Film Fest quando ha sottolineato che i ragazzi non devono avere paura di sbagliare, non devono pensare che un errore può compromettere la loro vita e le prime lezioni di vita per il Ministro le dà proprio Giffoni con il suo festival giunto alla 53esima edizione in cui si avverte la voglia di fare di tutto. Le cose più grandi e più importanti al mondo, proprio come ricerca scientifica oltre che l'America, sono state scoperte per errore e quindi viva gli errori, si può sbagliare, si impara e poi si fa meglio. Il tema di quest'anno del Giffoni è indispensabile per il Ministro e il festival in sé ad essere indispensabile. Devo dire che è indispensabile ai ragazzi ma anche a noi perché ci dà delle grandi lezioni di vita. Quello che dicevo prima al presidente, al super presidente, è Giffoni, solo con una visione orizzontale si fanno circolare le idee. Il verticale non funziona, il verticale, la gerarchia funziona alla comunità e qui c'è veramente una comunità di persone che ha voglia di fare, ha voglia di condividere, non ha paura di mettersi in gioco e che comincia già da piccolissima ad assumersi le sue responsabilità.